Belain Rodriguez sa sempre come stupire. Nelle ultime ore la fidanzata di Andrea Iannone ha pubblicamente difeso Barbara D'Urso. Sì, proprio la sua nemica, con la quale non ha alcun rapporto professionale e privato da anni. È risaputo che le due si detestino, eppure l'Argentina ha voluto tendere una mano alla conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, difendendola dagli haters. La sorella di Cecilia e Jeremias Rodriguez è intervenuta in una fanpage Instagram che prendeva in giro la bellezza di Barbarella. Un utente ha infatti ritoccato una foto della napoletana, manipolando il contrasto e la saturazione in modo da fare apparire in maniera eccessiva i segni del tempo della dottoressa Jo. Un gesto che ha infastidito parecchio l'ex moglie di Stefano De Martino, pronta a difendere la collega di Mediaset.